parliamo di chioccioli di elicicoltura ma soprattutto della loro preziosissima bava che entra nei cosmetici oggi vi parliamo di chioccio l'elevamento di lumache siamo ad argente di ferrara con me mino celati che è il titolare dell'azienda agricola omonima allora mino buongiorno noi vogliamo approfondire questo argomento con te perché tu sei un allevatore di questo piccolissimo animaletto molto lento però diciamo che ha impostato la tua azienda non tanto sull'aspetto gastronomico però sull'estrazione della bava di queste lumache una cosa che piace molto va anche molto di moda ma è soprattutto insomma molto ricercati il prodotto finito cioè le creme e i derivati che sono diciamo un tocca sana allora facciamo un passo indietro intanto parliamo di questo tuo allevamento che è un allevamento abbastanza consistente che superficie ha innanzitutto questi sono circa 6.000 metri 6.000 metri quadri poco più è una parte esterna destinata all'alimentazione supplementare sempre per il discorso dell'allevamento ecco perché perché alimentazione supplementare perché specialmente durante il periodo estivo quando c'è maggior vitalità all'interno dell'allevamento serve qualcosa in più rispetto a quella piantumazione che adesso vedete qua e quindi una percentuale di terreno va fatta esternamente per far sì di mettere dei quintali di prodotto all'interno dell'allevamento per avere un qualcosa in più come cibo per le lumache due parole su questa forma di allevamento che deve essere ci sono accorgimenti particolari queste reti e soprattutto una protezione esterna che impedisce l'uscita di questi animali di queste chiocciole esatto oltre che impedire l'uscita degli animali all'esterno del recinto impedisce anche ad alcuni parassiti eroditori che sarebbero dannosi per quello che riguarda la lumache le recensioni interne invece sono studiate in maniera tale che la lumache non possa uscire quasi sono fatte con questa balza in quanto la lumache una volta che si aggrappa e si attacca queste reti qua quando incontra la balza tende a cadere o a scendere dalle reti. Le essenze che sono utilizzate all'interno di questi recinti? Allora ce n'è una diversità colza che è quella che vedete con il fiore giallo c'è del cavolo nero del cavolo foraggio dell'abietola argentata radicchio repens e una varietà di radicchi particolari che servono sia per quello che riguarda l'alimentazione della lumache che per quello che è il suo habitat naturale per quello che riguarda la riproduzione della stessa. Mino noi ti siamo venuti a trovare in un momento caldo della giornata quando le lumache insomma sono un po' riparate per parlare un po' della biologia di questo animale insomma diciamo che d'estate quando fa molto caldo e anche d'inverno loro si rifugiano e si interrano. Spariscono completamente durante il periodo invernale nelle giornate più tiepide forse qualcosina riusciamo anche a vedere. Nel periodo estivo invece sembra che siano sparite tutte quante le lumache perché si interrano e si nascondono sotto le pentomazioni più grandi e non si vedono assolutamente fino ad arrivare al momento in cui alla sera partiamo con l'irrigazione anche perché ogni sera un po' di rugiadina artificiale va fatta o la mattina quando nel periodo estivo si inizia anche la raccolta che si vedono girare nelle prime ore del mattino con la rugiada naturale che si trova. Ed è il momento anche in cui tu le raccogli insomma adesso diciamo se ne vedono poche però tu le raccogli e hanno una destinazione particolare quindi non sono lumache che insomma entrano nei piatti ma sono lumache a cui viene estratta la barra. Ecco cosa succede? Spiegaci questo diciamo questa tua peculiarità. Allora noi effettiamo la raccolta non ci sono delle date o delle scadenze fisse tranne che comunque il periodo di raccolta va da fine maggio inizio giugno fino a ottobre inoltrato. Una volta raccolte noi le dobbiamo fare spurgare, pulire completamente quindi le lasciamo dentro delle apposite gabbie per 8-10 giorni circa dopodiché vengono confezionate dentro delle reti, inscatolate e le spediamo al laboratorio che poi ci farà l'estrazione della balda e userà la stessa per produrre dei cosmetici che dopo noi rivenderemo. Un metodo incruento perché poi dopo riprendete le vostre chiocciole, ritornano in campo e tornano a riprodursi. Assolutamente sì, le lumache ovviamente la mortalità che c'è qua dentro rimane quella del ciclo biologico, comunque le lumache che noi useremo per l'estrazione della bava ritorneranno completamente nei nostri recinti e ci serviranno per un'altra riproduzione e un'altra estrazione di bava nel periodo successivo della loro raccolta. Dopo parliamo un po' della bava, io vedo che c'è una chiocciola là in fondo, la puoi raccogliere che così magari la facciamo un dettaglio con il collega cameraman e descriviamo anche questa chiocciola. Ci sono particolari rasse di queste chiocciole? Allora questa in realtà noi abbiamo solamente un tipo, una rassa di chiocciola che si chiama Elx Aspers Müller. Abbiamo scelto questa perché inizialmente ci dava la garanzia e l'opportunità di puntare sia sul discorso farmacosmetico che per quello che riguardava anche il discorso alimentazione e gastronomico. Poi dopo noi ci siamo nel corso del tempo, una volta avviata le attività indirizzate specialmente sul farmacosmetico, comunque questa rimane diciamo la chiocciolina migliore per quello che riguarda il farmacosmetico. E dalla bava quanti prodotti si riescono ad ottenere in termini diciamo di creme o comunque prodotti per la bellezza? Noi in realtà abbiamo, non ne facciamo tantissimi, abbiamo puntato su alcuni prodotti su due diverse linee. Una è la linea corpo, abbiamo fatto tre tipi di prodotti che sono la crema corpo, crema mani e uno shampoo doccia. L'altra riguarda la linea viso che è un latte detergente, crema viso e un siero, un secreto puro di bava di lumache. Guardi io so che tua moglie adesso ci sta aspettando, magari chiediamo a lei quali sono le caratteristiche, però voglio ancora tornare un po' indietro, cioè come ti è venuta l'idea di fare questo allevamento ma soprattutto puntare su quella che è la cosmesi che deriva dall'utilizzo della bava? Ma in realtà qualche anno fa quando decisi di prendere io l'asienda agricola che era anticamente di mio nonno, poi dopo di mio padre, ho cercato di variare quello che era il suo indirizzo fino a qualche tempo fa e cioè quello di avere alberi da frutta e seminativo più che altro. Abbiamo cercato di diversificare perché ormai ci sembrava il tempo di provare di cambiare. Una delle novità a quel tempo era il discorso allevamento di lumache, ci siamo informati, ho seguito un corso, mi sono preso il mio bel patentino alla fine di questo corso e ho provato, ho fatto un investimento, siamo partiti e da lì passo dopo passo perché quando io ho iniziato questo tipo di attività ancora c'era ancora un po' acerbi a livello di mercato e anche di cosmesi, di laboratori, non c'era ancora tantissimo commercio. Poi piano piano partecipando a diverse conferenze, a diversi convegni siamo andati avanti ed è diventata non dico la nostra attività principale ma quasi della nostra azienda. Rosi Giuliano è moglie di Mino che insomma adesso ci ha raccolto un po' di lumache, adesso vediamo qual è il prodotto diciamo finito, una parte ovviamente abbiamo detto una piccolissima parte di queste chiocciole va ad uso alimentare ma sono veramente poche perché ovviamente devono produrre bava. Allora ci siamo rivolti a te perché comunque c'è una sensibilità femminile nel descrivere questi dettagli. Allora spiegaci un po' quello che noi vediamo, quali sono gli usi che si fanno nella cosmesi di questa bava? Allora la bava di lumaca è una panacea perché racchiude una miriade di prodotti naturali che servono a rigenerare le nostre cellule in modo naturale, acido glicolico, allantoina, vitamina D e vitamina E. Con l'impianto loro sviluppano maggior parte vitamina D. Quindi quando viene estratta la bava e una volta liofilizzata questa bava viene considerata pura al 98%. Quindi può essere utilizzata sia per la farmacologia sia per la linea cosmetica. La linea cosmetica è interessante perché va a stimolare tutto ciò che è il rigenerare le cellule dell'epidermide. Quindi non è soltanto per le rughe o soltanto per poter curare un inestetismo ma soprattutto perché viene considerato un potente anti-aging. Vuol dire un trattamento che ci permette di invecchiare con più lentezza, come le lumache, con più lentezza. Questo vuol dire che una volta assorbito acido glicolico, assorbito vitamina D, la pelle rigenera dal derma, che è la parte più bassa dei nostri stati della pelle, le cellule che vengono portate alla superficie nuove, sane, nutrite. Quindi una volta la pelle nutrita vuol dire che invecchia più lentamente e quindi dopo andiamo a combattere l'inestetismo che può essere l'acne, un brufolo, una macchiolina, una cuperose o anche una dermatite è un pochino più difficile. È ovvio che sono dei coadiuvanti, però sono tutti naturali. Di conseguenza dentro al prodotto ogni prodotto contiene 80% di bava pura e il resto sono emulsionanti naturali come la quelcia, la galaminaria, la rosa moschita che è un cicatrizzante. Quindi ogni prodotto va ad agire per ogni piccolo problemino che noi vogliamo curare e poi comunque perché ci rende belle. Quindi è un principio attivo portentoso. Mino per parlare un po' di cifre insomma è chiaro che tu hai specializzato la tua azienda su questo particolarissimo campo. Il principio attivo si misurerà in termini economici in grammi suppongo di estrazione. Ecco, cosa per ottenere 10 grammi di bava pronta per essere utilizzata quindi nelle creme? Quante chioccio le devono lavorare? Parliamo di numeri molto grandi adesso. Con la macchina che noi usiamo vengono messe volta per volta dentro circa 1000 lumache. Da queste 1000 lumache si ricava ovviamente circa 5 litri di bava sporca. Bava sporca si intende bava più acqua più tutti questi estratti che vengono messi in fase di sbavatura. Da questi 5 litri alla fine di tutti questi passaggi rimangono circa 10 grammi di bava pura. Quindi veramente poco che viene venduta al grammo a quanto perché bisognerà anche quantificare perché questo è il tuo lavoro. Guarda in realtà c'è una quotazione ben precisa con un range parecchio largo perché si può andare da circa 50 euro fino ai 300 euro. Quindi comunque il prezzo può variare tantissimo per diverse motivazioni. Periodo di estrazione, tipo di bava, quindi tipo di lumacchia e tipo di terreno in cui vive questa lumacchia, rassa della lumacchia. Quindi comunque ci sono parecchi fattori che influiscono sul discorso prezzo della bava della lumaca. Quindi anche qua viene pagata la qualità. Assolutamente sì. Infatti noi teniamo sempre a dire di stare molto attenti ad acquistare prodotti cosmetici con scritto principio attivo bava di lumaca perché bisogna accertarsi innanzitutto se la provenienza della bava è quella certificata dell'elix aspersa Müller e di controllare sempre l'inci perché un buon inci di una buona crema vuol dire che l'estratto di elix aspersa è al terzo quarto posto. Quindi vuol dire che c'è un buon 80-83% di prodotto puro. Questo le donne esperte in creme lo sanno benissimo. Infatti noi accettiamo sempre i consigli delle nostre clienti.